Ma perché sono tre? Perché crema e gusto sono tre! Il classico, il dolce e il ricco! Io prenderei il ricco! Guarda un po'! Buonissimo! Selvatico, l'uscita dov'è? Di là! Ma ce l'avete pass? Quali pass? Cioè all'ingresso non vi hanno fatto fare due pass? Veramente no! Beh ma due pass li possiamo fare anche adesso! Eh? Ma pure quattro! Bravo! Quattro pass dopo il caffè aiutano a digerire Remy Veloce che ci sono! Questo è pazzo! Tornerete? Sì sì! Aspetta! Crema e gusto! Ogni gusto è un piacere!